felice sera da rai uno per il ciclo lunedì film in prima visione televisiva rai uno presenta tom hanks in il miglio verde informiamo i telespettatori che la visione del film per il tema trattato e per il forte impatto emotivo di alcune scene è consigliato ad un pubblico adulto